Salve a tutti da Davide Zanghi, in questo unboxing vedremo il Pure Jongho T6, un speaker wireless, potenza totale di 100W, abbastanza potente per essere un speaker portatile, compatibile con iOS e Android, utilizzabile tramite Wi-Fi e Bluetooth, Wi-Fi lo dovremo usare se andiamo a usare in contemporanea più speaker, questo vedremo nel dettaglio più tardi, abbiamo la versione bianca e la versione nera, sotto la nostra lenta andiamo a fare l'unboxing, quella nera, eccola qua, faccio un breve tour della scatola, come potete vedere abbiamo due tweeter da 5 pollici, 100W, quindi 51W, qua poi vediamo che è stato fatto in Inghilterra, cioè il design è stato fatto in Inghilterra, Wi-Fi certificato, Bluetooth, Google Play e App Store. Procediamo all'unboxing veloce, andiamo ad aprirlo, e al suo interno troviamo, manualistica, veramente grande, manualistica, qua abbiamo una scartoffia di ringraziamento, poi andiamo a togliere questo, come potete vedere è veramente imballato bene, andiamo a prendere l'interno, troviamo una presa italiana, poi troviamo un altro cavo che l'ha presa Inghilterra, essendo un prodotto fatto in Inghilterra hanno incluso il cavo d'Inghilterra, quindi i tre poli, poi abbiamo il nostro giongo che andiamo a tirare fuori, spostiamo la nostra scatola, abbiamo anche il nostro prodottino bello insacchettato, andiamo a tirarlo fuori, ed ecco qua il nostro giongo, giongo T6, colorazione nera, ecco qua il nostro giongo bianco e quello nero, un breve tour vi faccio vedere un breve tour, qua abbiamo i tasti di volume, muto, tasto di accensione, poi nella parte posteriore abbiamo, abbiamo il tasto di accensione, presa USB, tasto Wi-Fi, AUX IN, quindi la presa ausiliaria, per collegare un device che non ha, che ne so, Wi-Fi o Bluetooth, quindi via cavo, a mio parere potevano includere un cavetto da 3,5, da 3,5, quindi da 3,5 mm jack, che tanto non costa granché, però includerlo fa sempre bene, poi abbiamo qua la presa di alimentazione, è il Kessington Lock, qua abbiamo una specie di, non so se riuscite a vederlo, abbiamo questa specie di coperchio, vediamo se riusciamo a toglierlo, ce l'abbiamo fatta, ecco qua, qua abbiamo una specie di presa treppiede, non so a cosa servo, ma penso che sia per metterlo in verticale, con un accessorio che non viene incluso, e direi nient'altro. Grazie per aver visto questo velocissimo unboxing di Pure Jongo T6, mi raccomando, iscrivetevi sul nostro canale, seguiteci sui vari social network, un saluto da Davide Zhang. Grazie per aver guardato il nostro canale,